Asclepius Che cos'è la filosofia ermetica? Commento La filosofia ermetica è l'opera in lingua greca di vari autori sconosciuti, attribuita a Ermete Trismegisto. Tra gli scritti vi è il Corpus Hermeticum, tradotto per la prima volta in latino da Marsilio Ficino, e l'Asclepius, di cui c'è giunta la versione latina di Apuleio di Madaura. I testi sono una mescolanza di dottrine platoniche, aristoteliche, stoiche, gnostiche, giudaiche. Trattano l'assoluta trascendenza di Dio e una serie di regole morali e di tecniche iniziatiche derivanti dall'alchimia, dalla magia e dall'influsso degli astri sul mondo naturale e umano. Come tutto l'esoterismo, che è un derivato della mente, la filosofia ermetica non serve più, se non ai cristallizzati, perché le risposte sulla vita e la morte sono sempre più appannaggio della coscienza. Grazie. Grazie.